Ho voluto essere presenti oggi in questa giornata, devo dire che ho visto tantissime persone, probabilmente le persone hanno voglia di viaggiare, hanno voglia di stare un po' tranquille e quindi il turismo sicuramente sarà nei prossimi mesi ma anche nei prossimi anni una grande opportunità per molti ma soprattutto per il nostro territorio regionale. Ho visto tantissimi operatori, la mia presenza qui è anche per stare vicino a tanti operatori che in qualche modo fanno incoming, cioè promuovono il nostro territorio regionale a livello internazionale, stanno facendo un lavoro veramente stupendo. Voglio anche ricordare che nel 2019 avevamo avuto questo riconoscimento molto importante da parte della Lonely Planet come una delle principali regioni, tra le regioni più belle a livello mondiale, purtroppo poi c'è stato il Covid, però diciamo che questo riconoscimento è stato importante, oggi stiamo facendo grandissimi investimenti, dovremmo come dire riprendere tutto quello che abbiamo perso nel corso degli anni ma sono convinto che il percorso che abbiamo preso sia quello giusto. Un riconoscimento a 360 gradi del lavoro fatto nel corso di questi anni ma anche, voglio dirlo, un riconoscimento per la città di Pesaro che per il 2024 è stata, come dire, nominata capitale italiana della cultura e da Lonely Planet ha voluto sicuramente riconoscere anche a Pesaro il grande lavoro fatto nel corso degli anni. Il TTG è una fiera tecnica di operatori, infatti siamo qui con oltre 60 operatori che vendono il prodotto Marche. La regione fa da casa istituzionale di tutto questo lavoro e aiuta a mettere a fuoco le cose che caratterizzeranno la nostra offerta turistica da qui all'anno prossimo, alle prossime stagioni. Abbiamo alla BIT presentato il nuovo marchio che qui riproponiamo le Marche, le Marche come una regione che è plurale e è femminile, quindi è una regione accogliente, è una regione che si ripropone con alcuni concetti chiave che vogliono essere i borghi, l'enogastronomia, l'outdoor. Sono forme di turismo sostenibile che dopo il Covid incontrano, abbracciano con particolare intensità il nuovo mercato turistico. Le Marche sono una regione pronta ad accogliere questo turismo. Voglio far notare una cosa, le Marche hanno il mare, il mare ha di per sé una forza attrattiva importante, ma da noi il mare è un tutt'uno con la possibilità di un'esperienza che in un attimo ti porta alla città d'arte, al borgo, all'entroterra, al giro fatto in bici. Nel giro di un'ora puoi sperimentare il turismo a 360 gradi e la nostra proposta è caratterizzata da questo, aspettiamo sempre più turisti. Queste sono occasioni sempre importanti per farsi conoscere, promuovere la propria città, la propria regione. Sono contesti anche dove si conoscono molti operatori del settore, sia italiani che esteri, quindi è sempre bene essere presenti e, come in questo caso, portare iniziative nuove e quello che sarà poi il prossimo anno, proporsi per le stagioni a venire. Ovviamente non si può prescindere da quello che sta succedendo, quindi ha ripercussioni su tutto, gli aumenti dei prezzi, del gas, eccetera, ma dobbiamo comunque andare avanti e provare a scommettere su un futuro positivo, quindi siamo qua proprio per questo. Stiamo cercando comunque di destagionalizzare, questo ci può venire incontro molto all'organizzazione degli eventi e soprattutto una pianificazione molto mirata, perché poi alla fine si concentra molto su alcuni mesi, invece è importante avere una presenza durante tutti i mesi dell'anno. Le Marche sono la seconda regione con più borghi certificati, siamo arrivati a 30 borghi, quest'anno è entrata Arcevia e lo scorso anno Petritoli, quindi sono delle piccole eccellenze, ma sono anche dei grandissimi punti di riferimento per il turista delle Marche, che vuol vedere delle piccole realtà, ma con tante cose. Abbiamo tantissimi borghi che spaziano sia dalla costa all'entroterra marchigiano, da nord a sud, quindi spaziamo in diversi settori, sia dai borghi montani che dai borghi balneari, quindi sì, abbiamo tantissime opportunità per qualsiasi tipo di turista. È la prima volta che veniamo magari a promuovere la nostra regione Marche. Mi piace molto anche perché frequentiamo l'indirizzo di ricevimento, quindi comunque stiamo sempre a contatto con le persone e adesso abbiamo la nostra collega che ci ha insegnato un po' a parlare al pubblico e magari riferire tutti i posti belli delle Marche. Sono responsabile del settore turismo dell'Unione Montana del Catria del Nerone. Le Alte Marche sono un progetto che parte da lontano, ormai siamo arrivati quasi alla conclusione, abbiamo creato una destinazione unica turistica che deve rispecchiare quello che è la nostra peculiarità, ovvero l'outdoor e come eccellenza abbiamo la ciclovia appenninica Alte Marche, l'acronimo ECAM, un grande anello che tocca tutti e nove i comuni della nostra strategia Alte Marche, cuore accogliente dell'Appennino. L'alluvione ha fatto davvero grandi danni, tuttavia siamo pronti e saremo pronti per l'anno 2023 ad offrire a tutti coloro che vorranno venire a trovarci sui nostri territori una destinazione assolutamente preparata ad accogliere tutti, da il bambino allo sportivo. Quindi speriamo di vedere tante persone che dalla primavera del 2023 arriveranno nelle Alte Marche.